Ventesimo anniversario dell'organizzazione episcopale di Monsignor Maniago. Nel giorno in cui la Chiesa ricorda la natività della Beata Vergine Maria, la comunità diocesana di Catanzaro Squillace promuove la festa in onore della Madonna delle Grazie, venerata nel santuario diocesano di Torre di Ruggero. In questo stesso giorno, inoltre, ricorre il ventesimo anniversario dell'ordinazione episcopale di Sua Eccellenza Monsignor Claudio Maniago, arcivesco metropolita di Catanzaro Squillace. Appuntamento dunque a venerdì 8 settembre alle ore 10.30 presso il santuario diocesano Santa Maria delle Grazie di Torre di Ruggero per la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Maniago.